Anche la pioggia si è fermata davanti alla Kermess che sta portando in Puglia i grandi nomi della letteratura, dello spettacolo e della politica. Polignano un velico del mondo per quattro giorni con il libro possibile. Bilancio positivo anche per la seconda serata apertasi all'insegna della nuova direzione che ha intrapreso la manifestazione. In Piazza Moro la sezione è dedicata al vino, idea testata lo scorso anno ma concretizzatasi in questa tredicesima edizione. Fiore all'occhiello la presenza del vincitore della terza edizione di Masterchef Federico Francesco Ferrero. Anche ieri spazio alle tematiche più disparate con il giornalista esperto di economia Alan Friedman intervistato dal direttore di TG Norba 24 Enzo Magistà alle tematiche della famiglia con Don Mazzi. Molto attesa la giornalista ed opinionista Selvaggia Lucarelli presentata da Mauro Pulpito per non parlare delle interviste impossibili di Dario Vergassola. Disturbatori si nasce o si diventa? Credo di aver avuto essere un stato rompibale nel DNA e poi ho evoluto questa roba sì ho scoperto che pagavano dicendo stupidaggini e mi sono subito gettato in questa roba qua piuttosto che portare pesi sulla schiena che già ero basso quindi. Si parietto anche per mingo nelle improbabili vesti di presentatore di Lorenzo Beccati coordinato da Tommy di Bari e di Il Vespone. A loro cosa c'entrano? E niente probabilmente è la famiglia come l'ho reso beccati. Completamente analfabeti quindi non sapevo neanche leggere. L'avete letto il libro? Io sì, loro no. Come no? Un anno fa l'ho letto Giovanni. Cosa ha detto? Genova? Non ce l'ha regalato.